La città dell'amore si prepara a vivere la ricorrenza del 14 febbraio, qualche vetrina si veste a tema, gli hotelli preparano cene ad hoc e poste italiane celebrano San Valentino con quattro cartoline filateliche, ma andiamo con ordine. L'hotel Santa Croce Ovidio si organizza per domani una cena spettacolo tutta da vivere, un viaggio giocoso tra i vertugi dell'amore, storie orme della storia, pieno di aneddoti, detti e sketch per ridere e sorridere e amare come mai. Dal balcone più famoso del mondo, quello di Romè e Giulietta, le passioni piccanti dei poeti e il pudore dell'Italia ottocentesca. La cena spettacolo di e con Pasquale di Gian Antonio e Sara Di Sciullo avrà luogo a partire dalle ore 20 e 30, si articolerà in una sequenza scandirata e ben quattro portate scelte e curate dagli chef del Santa Croce. Ancora una volta la famiglia Santa Croce ha voluto creare un particolare connubio tra enogastronomia ed arte. La cultura fungerà collante a questi elementi e per noi è sempre un piacere e un'importante occasione per promuovere i prodotti del territorio, in particolare della città di Sulmona, fanno sapere tra l'hotel Santa Croce. Non meno originale è l'iniziativa di poste italiane. Si tratta di quattro speciali cartoline colorate e animate che seguono lo stile di quelle del 2018, permettendo così ai tanti che le hanno acquistate di dare seguito alla collezione. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi semplicemente desidera ricordare o festeggiare in modo originale la giornata di San Valentino. A Sulmona il kit filatelico è disponibile nell'ufficio postale di Piazza Brigata Mariella e che l'amore trionfi.